Stavo ingrazzando. Ecco cosa significa essere soli. Quella sera avevo un invito a cena, il primo da tempo, e mi preoccupava l'idea di fingere moderazione. La totale assenza di interazione reale nell'era digitale, l'impoverimento della comunicazione, la sopraffazione dell'uomo che di fronte all'emancipazione femminile reagisce a volte con la violenza. Solitudini pericolose, l'opera prima di Emanuele Pecoraro, ci racconta quella realtà che spesso vorremmo nascondere sotto il tappeto. Quella terribile fotografia di un fenomeno, quello del femminicidio, che non è un semplice titolo sul giornale, ma triste e allarmante verità. Un cortometraggio duro, che non fa sconti e senza mezzi termini apre le porte di una casa dove si consumano giochi trasgressivi dal triste epilogo. È un cortometraggio drammatico, ma anche con delle sfumature horror, che tratta un tema quotidiano, un tema oserei dire proprio horror, che è quello del femminicidio e della violenza sulle donne. In realtà nei dieci minuti che compongono questo corto ci sono anche altre tematiche come quella dell'omosessualità, del complesso di etipo, dei disturbi alimentari, quali possono essere l'anoressia, la bulimia, il cannibalismo. E forse la più grande sfida è stata quella di concentrare in dieci minuti tutti questi temi. Un lavoro che per la sua crudezza è stato censurato dalla Commissione di Revisione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Inizialmente è stato vietato ai minori di 18 anni, successivamente è stato rivisto perché con il produttore Campanella siamo ricorsi in appello e successivamente la Commissione di secondo grado l'ha derubricato ai minori di 14 anni. Mettere prima un divieto così forte, secondo me, è stato forse eccessivo. Però sono contento che poi anche il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali ha ricevuto il messaggio. Una denuncia dall'inatteso finale che affronta con coraggio un'emergenza sociale trattata ancora con pregiudizi e tabù. Omertà, superficialità, paura. Un muro che un pezzettino alla volta qualcuno sta cercando di abbattere, non senza qualche difficoltà. Superstizione. Questo è il nome che gli uomini danno alla loro ignoranza. In realtà c'è solo un modo per definire ciò che siamo. Solitudini.